e benvenuti in questo nuovo episodio di Gears of R con me e... Alessi, lo sai da poi non ci vediamo perchè hanno un po' sentire io e qualche imprevisto perchè sapete che siamo qua della Natale e... si vedo che Alessi siamo impegnati ehm... con questo ok ragazzi quindi vi auguriamo buona... e buon Natale mi so che si manca poco allora io sono sopra e per ora aggiungimi che c'è qua sotto? ah il nostro... il walking back ehm... ammazzalo ammazzalo io sento dalla scala ah no no poi ho aperto il coso vabbè ok su per le scale seguiamo... seguiamo Less Luthor capita Less Luthor no bella abbi la porta ok sono... giù ok sono... giù oh amico ah ma... hai detto c'è ancora uno mio qua muori... nooo Ale aiuto si però ascendi eh... guarda che muoio io Ale sei la scala lì sei la scala lì l'ha aperta lì l'ha aperta lì ma è scala lì beh... sono... sono già morto l'ho già capito ah... dai sbagliati che sai muoio ti devo... corri dai sono lì sono lì sono lì sono lì mi prego dai con la hit grande adesso me la paghi si... di nuovo aperti che bello il sangue si... è stato fantastico non d'accordo te come ti chiami soldato? soldato semplice Cole squadra Alfa signore Cole? non è che ti conosco? si è probabile dov'è il resto della squadra? la squadra è asseragliata nella tomba siamo la squadra Delta siamo qui per recuperare il risonatore e portarvi via di qua ottimo aspetta l'uomo l'elicottero ma la radio non funzionava merda signore l'abbiamo notato sono i sita ci bloccano le comunicazioni allora dobbiamo occuparci per primi signore giusto dobbiamo ristabilire il contatto radio con il controllo al più presto ok andiamo andiamo e da qui che siamo fermati l'altra volta dannazione l'unico il solo te lo ricordi? dove si parla con la motosega? si pensare di linea tu non puoi non hai l'arma con la motosega si controlla no non c'erai ok dove dov'è col il resto luto? sulle 40 yard ricordo che mi devo enti pezzi sei lì con loro davvero? ci vediamo dopo la guerra eccoci eccoci ti ho visto ti ho visto ti sai cosa c'è al primo di sopra? magari un minibab? in questo posto in questo posto cala pezzi guarda è sotto attacco dove ci va adesso? la porta che? che diavolo era? attento eh guardati le spalle ma c'è una buca e un cadavere restate qui Jack vedi di aprire questa porta com'è profonda ho forza una grata no provo dai me l'ha lanciata? eh? si ma non esploda vabbè oh è il gollum si è il gollum è il gollum è il gollum io non l'ho mai visto è un gollum modificato tutta la sua famiglia anche ammazziamoli attento sopra eh ma morite sono troppi guarda sopra anche sui muri questi qua si arrampicano oh chi ha un vecchier come dentro di noi? come dentro di noi? ah ma l'ho ammazzato su stroggi un attimo che ti fanno vivere oh fatto ma morite non mi aspettavo che mi staccassero da dietro ma almeno si spiega perchè c'era una buca così profonda fuori sotto eh famiglia sono proprio lì qua si i piedi ok mi ero preso una pausa porta aperta ecco entriamo prima che ci sono altri cosi andiamo damnazione cos'è questa puzza davvero questa puzza è storia sono orrendi amico orrendi pensate a combattere soldati ma al quale non c'è niente cioè non vedo cosa ci sia martello dell'arma? ora lo prendo io ma io ok è tua ragazzi questa arma è devastante capite perchè è come un segnal sai Alessio quell'arma tipo che tu segnali e loro beccano? ecco tipo uguale ma qua c'è un raggio tipo la stratellite si dimmi guarda ecco guardate eh l'avete visto? ok chi c'è qua fuori? oh cavolo non vi impiate quando c'è qua fuori a lei becca quel coso subito facciamo la rosso ma tirate via di mezzo tranquillo in piatto tu pensa a beccare quello e vai morto? no continua continua che cosa ci sta applicando? ecco è sparito no no non è morto però è sparito oh oh l'altra parte vai bruzzali tutti eh vuoi usare la pistogna va? fuori brucia ecco un po' di qua grazie ti hai fatto a pezzi pezzo di merda dovremmo usare sempre il cielo dell'aria funziona solo alla ferro perché solo quando ci sono i sacri dai vuoi dire che l'umorismo dei personaggi è bello eh controllo qui delta rispondete un po' da bastardi ma è bello ancora niente ci devono essere altri siti andiamo qua c'è una tabucala sospetta dove sei? come si fa a correre con? con la però ti ti ammazzi così eccoci qua vieni vieni ok ah da questa parte ah l'alma come viaggi gli alfa aspettano abbiamo fatto un giro della madonna per venire qua com'è dato? ah ecco è la è la è la oh oh si attaccano di sà va bene devo cambiarlo siamo pronti non usare il mantello dell'alba eh anzi si usano contro di lui mambo sono sospetti di non so cosa oh no arriva anche i gollum qua ti copro io vai sembra veramente di ragosta vai abbazzalo 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 oh lassate lo stale ma non hai capito c'è un ragno o cosa? ma non è molto chiaro ma non è molto chiaro si l'hai ucciso ah adesso pensiamo a questi specie di colm guarda guarda che mi metto mi metto mi metto con la boxeia vai ce la c'è? eh certo ma beccali questo ma beccali questo boh ti te frate lo dico io eh dove si va adesso? eh segui il tizio qua segui il call oh la a volte ci sembra qualche problema tutto ok forza gente dobbiamo raggiungere gli alfa Enriga ho visto qualcosa spero che sia qualcosa di non grosso siamo capitati di una specie di masu... ma... sotterraneo ecco anche che sembriva un po' masuleo ok scendiamo Ale stai... attento e spara no la cucina è solo l'ho aperto devi cambiare arma prendi il fucile a pompa a destra ecco il nostro amichetto morto andiamo a fare un... un... andiamo a vedere uno pietra di vicino non è che posso risvegliare il... nooo mi pare siamo diretti alla posizione degli alfa camminare la disfrezza no tranquillo penso che è ben corazzato eh stiamo finendo il carburante negativo 2-4 negativo ragazzi guardate attentamente che bestia ok proseguiamo siamo... oh siamo come stai in chiesa oh no arrivano questo è un lato... destra io sinistra molite motosega rock and roll bellissimo rock and roll eh perché no scusa cos'è? certo che se l'avevi anche te la motosega quel fucile deve essere cambiata vabbè ah si perché avevi le bolliture scariche cos'è questa merda? è Rojas ecco abbiamo trovato un altro cadavere come ho messo male da quale parte? qualcuno mi sa dire qualcosa sull'operazione di Hoffman e sul risonatore serve a mappare la rete sotterranea troveremo così il nucleo delle locuste e lo distruggeremo eh sempre che va tutto bene però che bella statua che è questo? un soldato dell'articca Roma oh no ecco che gli tornano a oh no oh buona um chi è libera qualcosa mi dice che servirà la battaglia dell'alba Ale è il tuo turno Vai Serve serve C'è un altro di quei cosi Qua sotto E non credo che Servo io tanto Bella Un'altra bella Corazzata Alla barate Non è morta Continua Stai facendo il copro Ottimo lavoro Però Hai visto come si è visto questo? Sembra tipo come i cani Abbiamo eliminato tutti i siti Andiamo alla posizione degli Alpha Molto bene Delta Aspettiamo notizie degli Alpha Ok adesso Che facciamo? Qui Alpha Ma dove diamo lo siete? Eh Che fine avevi fatto amico? La squadra Delta è nella dimora dei sovrani Passo Fantastico Le troiche sul vostro tetto ci tengono sottotiro Passo Ah perfetto Cevuto restate dove siete E facciamo fuori Non andiamo da nessuna parte Signore Delta chiudo Trovate quelle troiche Ok Ma cosa mi dice che vengono da qui? Attento a lei Girati Non è una granata è vero? Sì Allora Preparati arrivano Lanza la Presto lanza 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 E vai Uno è fatto fuori UUAKU L'altro è detto al murretto Anzi no Aspetta tienila Maledetto Ecco Ammeno mi ricarico Non credo che non è di qui E anche te Intanto Lezza e lutto Nel codo Sono spariti Perfetto Eccoli qua Cavolo Eccoli Sì Alfa Siamo in vista Della vostra posizione Qui ci servirebbero Le vostre munizioni Ricevuto Delta chiudo Ok Abbiamo trovato La squadra Superstite Andiamo di soccorso Non mi piace Questa Questo vicolo qua Comento che Di fondo Ora Vengono fuori E si attaccano Alle prepara Vado avanti Vado avanti Ancora nulla Ancora nulla Ah Mi si attacco Ah ecco mi pariva Questo Alla Le mie Rive Questo Questo Fuoco Ho sbagliato No Hai Mazzato Una Scrivalia Ecco Toglienti Che Ammazzato Con la pistola Sì Con le revolver Andiamo Detto che a lei Non li stai ammazzando Molti Io sono Almeno Lo sento Ma scusai Il funcino anche te Come C'è la pompa Li becchino Da Insomma Li becchino Li fai fuori Secchi Secchi Oh cavolo Ti mancava Quella lì Adesso Vado Vado Oh Caravecco Da qua Trovo Sì Sono un grande Marcos Spianco Destro Vai 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 Qua Presto Vai La Vittagliatrice Così per Sicurezza E A Punto Spara Presto A Volontà Beh Lale Vai Vedere Chi Comanda Pensi a quelli che arrivano Io invece Passano qua Le ammazzo io Con la tua assicurazione Oh Di qua Vengono fuori Da nulla Ok Sono morti Tutti Credo Ora Sono morti Tutti Ok Proseguiamo No da quella parte Così Mi sa di sì No Allora Dobbiamo andare Di qua Qualcuno ha fatto cadere un lampadario Vabbè Vabbè Sì È la strada giusta La costa Ma andate Andate in vacanza Un'intanto O no Allora 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 Vai Il ciglio è bastardo guarda rivendicati bella e si muove ancora ok posso avere questa qua c'è il revolver e il granate e spedito tutto il pacchetto bene così quello che puoi ah guarda che per me ma per ora non c'è anima viva qui avanti non certo mi sa che ho spiegato strada ritorno di qua ok qui è crollato e noi vediamo di qua sperando di aver sbagliato strada questo caso è un abilito ah eccoli qua se noi avevo visti eravamo in giro come due segni questo era un posto bellissimo un sacco di storie qui dentro anche un sacco di bugie bel coraggio soldato sa tutto del tuo processo il suo processo è stata una farsa stiamo nella tavola rotonda di Realtù oh cavolo andiamo da dappertutto ah dalle scale basse qua c'è una bella migliorazione per stare vieni subito c'è la torretta dai dai qua dappertutto 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 usa il pozzerro dell'alba dappertutto 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 un po' di qua grazie adesso vengo ahah ahah avevo stati per un una remma di quell'ora perciò e vai e vai e vai e vai te l'avevo fatta e vai te l'avevo fatta ricevuto ora siamo nel punto di raccolta li vediamo ce ne andiamo ogni volta che salgo su quelle cose mi viene da vomitare grazie a diti vicino a marcos mi vuoi bere? si si grazie a tutti dov'è Rojas? che serario che serario? arrivano i rinforzi si volevano aia qualcosa mi dice che i rinforzi non arriveranno addio è veramente addio elicottero era troppo un bello per essere vero aia che cavolo martello no si facciamo vedere vai a martelline saluto aia ragazzi avete presente che il loro gioco sei un boss forte violento non si può uccidere in nessun modo eccovelo qui il boss finale del gioco due film di gioco no questo qua è quello che incontriamo alla fine ve lo spoiler mi è stato comunicato che hanno trovato un'altra squadra la nostra strategia rimane invariata taglio la testa del serpente e morirà il resto del corpo vinceremo questa guerra ormai è solo questione di tempo eh si abbiamo perso abbiamo perso l'exelutor no ok perdiamo resta la tua forza e se ne va si suoni beh guarda sono le opuste i suoi uomini che si stanno attaccando eh per me non è santo che lui ci attacchi adesso ricordiamo i conti magari un'altra volta qui soldato semplice Fenix il tenente Kim è morto ci siamo ritirati nella tomba e ci serve una via di uscita ripetere alfa Kim è morto un fermo controllo morti in battaglia ricevuto c'è un cortile dall'altra parte del palaccio è l'opzione migliore ricevuto beh di certo non possiamo restare qui sei sei Bert si esatto stronzo e tu chi saresti mamma spazio non muovete cos'era un berserker può sentirci può sentire il nostro odore o cavolo raga questo qua questo qua è abbastanza beh violento è un'aspetto di che era guardia senza controllo infatti ha mangiato anche i suoi no merda e ora muore questo scopetto cavolo ma allora è scemo oddio spaventato qui delta c'è un berserker nelle vicinanze che cosa facciamo non sparate delta le armi normali non funzionano avete ancora il martello dell'alba affermativo controllo il satellite vi coprirà per pochi minuti ancora uscite e usate il martello è la sola cosa che funzionerà ricevuto delta chiudo ok gente restate qua siamo venuti a salvarvi e ci riusciremo Tom andiamo bene ragazzi questo episodio finisce qui e quindi da me e da Alessio ci vediamo alla prossima puntata ciao